Perfetto, dal punto di vista della tua attenzione, sempre dedicata alla dimensione del sacro, quale ruolo ha, che rapporto ha con il presente, casomai invece che declinato al passato, anche rispetto a quello che potrebbe accadere nel futuro? Parte integrante del delirio di onnipotenza neoliberista era quello di completare il disegno comunista di distruzione dell'identità religiosa, senza neanche fare più i musei dell'ateismo, semplicemente riducendo tutto a una pura questione individuale che poteva, nel caso, essere celebrata dentro casa in maniera tale che non avesse nessun impatto sociale. Negli ultimi trent'anni è successo esattamente l'opposto. In questo momento il mondo vive una serie di spinte di tipo religioso, siano esse rette o distorte, cioè tradizionalmente ortodosse oppure pervertite di tipo fondamentalista, in tutto il mondo, dall'India alla Russia al mondo estremo orientale, persino all'interno dell'Europa decadente, quello che cerca di reagire alla decadenza lo fa in nome di una serie di valori di lungo periodo, una volta in un periodo, una volta si sarebbe detto non negoziabili, che hanno una chiara radice tradizionale cristiana. Quindi questo è il momento in cui lo spessore religioso, la tradizione religiosa dell'umanità riemerge dalle rovine del neoliberismo decadente. E noi dobbiamo solo aiutare questo dialogo tra le diverse tradizioni religiose, perché da un mutuo aiuto a livello planetario viene una forte risposta alla pretesa neoliberista di continuare la sua ipoteca sul mondo.